l'ita proviene dal nome sassone della dea del grano il solstizio d'estate che viene associato a questa festa proviene come parola solstizio da solstat il sole si ferma poiché sembra proprio che il sole si fermi per poi ritornare indietro perché in questo momento dell'anno o meglio da questo momento dell'anno le giornate piano 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 cominciano ad accorciarsi fa buio sempre prima e quindi si va verso l'autunno proprio perché siamo al centro dell'estate l'estate solare comincia adesso ma in realtà nel calendario tradizionale l'estate è già iniziata a maggio quindi siamo esattamente a metà strada il nome cristiano della festa del solstizio spostata verso la celebrazione del santo giovanni e infatti il 24 giugno ma sotto il mantello del cristianesimo comunque ci sono ancora dei rituali e delle pratiche come la barca di san giovanni la raccolta delle erbe che provengono esattamente dalla festa di lita LennyCast